E si procede a passi spediti verso il nuovo parco tecnologico di Bolsano Sud, si parte entro la fine del 2010. L'assessore provinciale all'innovazione Roberto Bizzo ha effettuato un sopralluogo sull'area Exalumix e negli edifici dove sorgerà la struttura del nuovo parco tecnologico. Vogliamo chiudere bene in tempi ragionevolmente rapidi questo progetto, ha detto Bizzo, partendo con gli appalti delle opere già a fine 2010 o nei primi mesi del 2011. L'unica strada per poter restare competitivi nel mercato moderno è quello di innovare, innovare continuamente. Innovare che significa non solamente fare prodotti nuovi, ma significa anche dare la possibilità di continuamente migliorare ciò che stiamo facendo e quindi l'innovazione dei prodotti, fare prodotti nuovi, ma anche innovazione di processi per migliorare sempre di più qualitativamente i prodotti che già stiamo realizzando. Con l'acquisizione nel 2006 dell'Exalumix in zona industriale a Bolsano, la provincia ha creato dunque le premesse per l'istituzione del parco scientifico e tecnologico, nel quale dovranno essere insediati centri di ricerca, laboratori o istituti nei settori di avanguardia, dall'energia rinnovabile alla tecnologia alpina, dalla mobilità sostenibile all'informatica. Il progetto complessivo nell'area di Bolsano Sud comporterà un investimento di 63 milioni di euro per creare le necessarie infrastrutture. Spazi nuovi pari a 160.000 metri cubi per la parte pubblica, oltre all'area di 158.000 metri cubi prevista per l'insediamento di imprese private, che significa ulteriori investimenti da parte delle imprese.